I won't cry for you, I won't cry for you. Torna il grande ciclismo su Rete 8. Abruzzo protagonista nel Giro d'Italia con la grande partenza. Quattro tappe toccheranno la nostra regione e su Rete 8 tutti gli approfondimenti con interviste, immagini e curiosità. Dalla presentazione delle squadre alla cronometro sui trabocchi fino all'arrivo sul Gran Sasso. Non perdere su Rete 8 gli speciali dedicati al Giro d'Italia. Info su www.rete8.it Info su www.rete8.it